In Sudan infuriano pesanti combattimenti nonostante il cessato e il fuoco prorogato lunedì e in vigore fino a sabato. I rapporti indicano che l'esercito regolare e le forze di supporto rapido stanno usando un'ampia gamma di armi per condurre attacchi nelle città e nelle periferie, tra cui l'artiglieria pesante e l'aviazione. I combattimenti più intensi si registrano nella regione del Darfur meridionale, ma si ha notizia di violenti scontri anche nel sud di Khartoum e Aumdurman. Secondo una fonte diplomatica sudanese, mercoledì l'esercito ha anche deciso di sospendere i colloqui con la parte rivale, grazie ai quali si erano raggiunti due accordi di cessate il fuoco. L'ultimo, con la mediazione dell'Arabia Saudita e degli Stati Uniti, era stato appunto rinnovato per altri cinque giorni. Secondo l'OMS, la guerra, alla sua settima settimana, ha ucciso almeno 850 persone. L'Arm Conflict Location and Event Data Project conta più di 1800 morti. L'Oghto L'Oghto Grazie a tutti.